Io sono la pizza. Voi penserete, la pizza non è nient'altro che un pezzo di pasta di farina, acqua e lievito modellata dalle mani di un pizzaiolo. La pizza è una parte del nostro DNA. È storia, è arte, diciamo è un po' la vita dei napoletani. La vita del pizzaiolo è bella sacrificata, sacrificata perché tu devi far combaciare le due cose insieme, famiglia e lavoro. In questa città, ad ogni angolo, in ogni portone, si trovava una volta un forno. Siamo una famiglia, non abbiamo il pizzaiolo di riferimento, oggi c'è il pizza star. La pizza oggi può essere considerata un prodotto di alta cucina. Credo che il futuro della pizza napoletana sia una figura del pizzaiolo sempre più formata. Seguenti i criteri di un'alimentazione della dieta mediterranea, non bisogna mangiare solo i carpelli della salute, ma bilanciarli. Quindi un insieme di emozione, di tradizione, ma soprattutto un insieme di informazione e di competenza. A volte il modo migliore per rinnovare è restare fermi, si dice, no? Grazie mille! Grazie a tutti